Parte domani a Cremona l'undicesima edizione del Bontà, il Salone delle Eccellenze Eno Gastronomiche Artigionali, con un avvio segnato da un'iniziativa particolare. La Kermes vuole infatti fare un omaggio a tutte le donne, così in occasione dell'apertura il pubblico femminile potrà entrare gratuitamente e godere ancora di più della manifestazione che da dieci anni è il punto di riferimento fieristico italiano dell'enogastronomia artigionale. Nella città del Torrazzo si troverà il meglio delle produzioni tradizionali, con 2000 prodotti provenienti da tutta Italia. Non solo specialità per il palato, ma anche un'ampia gamma di attrezzature professionali, strumenti per valorizzare al meglio i prodotti e che saranno protagonisti dell'area espositiva. Si attende un buon riscontro di pubblico per la Kermes, vista la crescente attenzione rispetto alle tipicità e alle eccellenze della cucina da parte dei consumatori, che nella passata edizione hanno fatto registrare ottimi riscontri commerciali da parte degli espositori. Ma questo è solo uno degli obiettivi di bontà, che si propone come salone capace di mettere in contatto proficuamente produttori e distributori, buyer e ristoratori, in modo da creare nuovi canali commerciali per i prodotti di alta qualità. A ciò si aggiunge un ricco programma di eventi collaterali dedicati ai professionisti e ai buongustai. Gare tra chef, seminari, convegni e degustazioni per aggiornarsi sui temi più attuali dell'alimentazione, dalla celiachia al biologico, passando per la valorizzazione dei prodotti di qualità.